Questo è un prodotto, si chiama Policino, è un portamoto per camper, può essere montato su quei veicoli che hanno il garage per poter caricare la moto più agevolmente in quanto molto spesso ci sono problemi di spazio per poterla entrare, caricare, legare e quant'altro. Con questo sistema la moto si carica all'esterno del veicolo e poi automaticamente viene caricata all'interno.